Abbiamo una tabella abbastanza fitta, abbiamo già trattato le patologie quelle più gravi, ha già accennato molto bene alla storia del rene policistico, però ci sono anche persone che nascono con le malformazioni o molto molto frequenti oggi sono le malformazioni dell'uretere e dell'uretra. Sì, molto frequenti anche queste, più che nascere lo si diventa. Lo si diventa, a meno che negli ultimi mesi, soprattutto negli ultimi due o tre mesi, l'alimentazione materna non sia stata nettamente in contrasto con il sistema immunitario del bambino. Che può succedere, vero questo? Altro che, anche perché c'è da pensare che i primi tre mesi i danni di un'alimentazione scorretta sono a carico della madre e infatti le gravidanze sono accompagnate, i primi tre mesi o quattro sono accompagnati spesso da problemi digestivi, da nausea, difficoltà ad alimentarsi proprio perché tutto quello che finisce nello stomaco, se non è più che corretto, crea dei problemi. Ma gli ultimi tre mesi i guai vanno a finire non tanto sulla madre, ma soprattutto sul feto. Per cui se gli ultimi tre mesi, soprattutto l'ultimo poi, sono caratterizzati da un'alimentazione sbagliata e scorretta dal punto di vista immunitario, che quindi può contrastare tutte quelle sostanze, possono contrastare con le caratteristiche immunitarie del bambino, si possono manifestare delle problematiche. Ecco perché allora i bambini anche in età piuttosto tenera possono lamentare queste cosiddette malformazioni. Però spesso e volentieri il problema grosso si evidenzia con l'allattamento. O l'allattamento materno o più facilmente con l'allattamento artificiale. E lì se proprio c'è un'incompatibilità tra quello che introduce la madre, che poi tutto il danno va a finire, tutte le molecole tossiche vengono risucchiate dal bambino con l'allattamento e il danno se lo trova il bambino. Per cui tutta una serie di infiammazioni a livello urinario e poi dai oggi, dai domani e dai dopodomani si possono manifestare con delle vere e proprie malformazioni. Per cui ad esempio gli ureteri, conosco tantissimi giovani, giovanetti insomma che hanno subito dell'intervento addirittura di plastica dell'uretere perché poi un'infiammazione dietro l'altra e gli ureteri che come se fossero dei piccoli tubetti che sono quelli che convogliano, che portano l'urina dal rene, dal calice renale fino alla vescica. Se l'infiammazione persiste, si mantiene, si protrae, diventa cronica lì alla fine e dai oggi e dai domani e poi la storia, si deformano, si malformano e sono costretti praticamente a intervenire chirurgicamente. Bene, quindi penso che poi se arriveranno telefonate magari possiamo di nuovo tornare sull'argomento. Io vorrei parlare anche di ematuria, che cosa sta a significare? La presenza di sangue, di globuli rossi, di globuli rossi nelle urine, che può essere il segnale di un'infiammazione acuta e ci può stare anche sotto forma di trauma, tanto per dire sotto forma di trauma può essere che in un ragazzo, in un giovane che va a fare motocross, se dovesse andare a fare gli esami dell'urina il giorno dopo che ha fatto le gare di motocross potrebbe essere che tutti questi sobbalzi potrebbero creare delle piccole lesioni che potrebbero sfociare con la presenza di sangue nell'urina. Però in più delle volte può essere un segnale di un'infiammazione a monte. Poi bisogna vedere se veramente il colore è carico, è veramente abbastanza forte, oppure se sono solamente tracce. Però non bisogna sottovalutare la presenza di sangue nell'urina. Potrebbe esserci dietro una cistite abbastanza... Cosidette emorragica. E poi anche l'età che va valutata, perché un conto si avviene in un giovane, in un ragazzo, in una ragazza, che sicuramente tutto quanto può deporre per una forma infiammatoria acuta e che poi passa e sparisce. Tipo una mangiata eccessiva di gelati d'estate, ecco, può portare gelati di vero latte, non gelati di frutta, può portare anche a una forma di ematuria. Un conto invece è in una persona adulta dove la presenza di ematuria va indagata e va valutato se effettivamente è un fatto straordinario, un fatto sporadico, oppure se dietro c'è un qualcosa di molto più serio e severo. Quindi bisogna... È un campanello d'allarme. È un campanello d'allarme. Senta, invece sempre finisce per un... Bisogna non spaventarsi per gli appassionati di mangiatori di barbabietole rosse, perché quando si mangiano le barbabietole rosse, soprattutto a cena, il giorno dopo, al mattino dopo, uno va a far la pipì e trova, e si può trovare il bel colore rossastra, che uno si spaventa. Ma quello non è sangue, è proprio la barbabietola che lascia il suo colore. Se uno non lo sa, se uno non è informato, non lo sa, non ha mai avuto notizia che la barbabietola rossa può dare una colorazione abbastanza forte, carica di un colore rosso sangue anche alla pipì, è una persona, altro che se si può spaventare. Certo, certo. Quindi... Con il termine disuria, che cosa si vuole significare? E con il termine disuria sta a significare delle difficoltà urinarie, delle difficoltà a urinare bene, magari del getto urinario che non è perfetto. Quello interessa a voi, signori uomini, di solito? Eh, di solito sì, di solito è accompagnato anche con disfunzioni non solo. Più che renali, sono a carico della prostata e della vescica o anche dell'uretra. Comunque l'importante è che non siano cose fatti che si protraggono a lungo. Ci può stare un qualcosa di acuto, tanto per dire, nelle persone di gruppo A e di gruppo AB, che non tollerano per niente il peperoncino, ecco, invece che essere colpiti nell'emorroide potrebbero essere colpiti a livello urinario e creare una forma acuta anche magari di un'astenosi, di un restringimento che poi se si protrae nel tempo diventa un'astenosi praticamente cronica e lì le cose diventano un poco più seri e severe. Si complicano molto. Un altro alimento pericoloso per i reni, perché non ci sono solamente latte e frumento, ma per i reni, ad esempio, e le vie urinarie, il tè comune, il tè comune, il tè nero, il tè nero fermentato e il tè deteinato possono incidere molto sulle infiammazioni delle vie urinarie. A parte le persone di gruppo B, che in genere con tutti i vari tipi di tè se raccavano bene, ma gli altri tre gruppi, il gruppo 0, il gruppo A e il gruppo AB, è opportuno che se ne stiano bene alla larga dall'utilizzare il tè nero e il tè deteinato. Tanto tanto il tè verde, che in genere soprattutto quelli di gruppo A e di gruppo AB se raccavano più che bene, un po' meno bene quelli di gruppo 0. però il tè è un alimento, è una bevanda che è da prendere tipo, può fare molto, ma molto più danno, molto, ma molto più danno il tè che non degli alcolici. Pensate, anche un gastroenterologo, non so, forse ve l'ho già detto, che leggendo quel libro mi sono molto stupita, però un gastroenterologo giapponese, dove appunto loro hanno per tradizione un consumo elevato di tè, metteva in guardia sull'uso e l'abuso del tè, perché lo ritiene una bevanda corrosiva per le mucose, e quindi addirittura lui attribuiva l'alta incidenza di cancro allo stomaco che c'è nel suo paese, il Giappone, proprio a questo consumo abituale di tè. Soprattutto il tè a stomaco vuoto. A parte il gruppo B, gli altri tre gruppi, il tè comune, il tè detainato, che ci stiano alla larga. Mi spiace molto che sia diventata anche un'abitudine come alimentazione per i bambini, molte mamme oggi optano proprio per il tè, il tè a colazione, il tè a merendina, il tè a merenda, pensando che il tè sia un alimento più nobile, anzi salutare, invece non lo è. E poi i bambini eccitatissimi, bambini nervosissimi, problemi di scrittura, problemi... Eh, lo dicevamo, no, che dietro a tanti disturbi dell'apprendimento... Problemi con l'emissione corretta delle parole e poi magari c'è solo ed esclusivamente dietro l'uso, l'uso di una sostanza, di una bevanda che non è per nulla tollerata e che va a creare dei grossi problemi, dei grossi problemi... Digestivi, certo. Ecco, il contrario, forse abbastanza contrario alla disuria, c'è la polla chiuria, polla chiuria, pronunciato male? La polla chiuria, dal greco pollakis, che vuol dire spesso, quindi urinare spesso, e che è tipico e caratteristico delle forme infiammatorie come la cistite. In genere la cistite è proprio caratterizzata, oltre che da disurio, oltre che da dolori, fastidi o bruciori, e anche da urinare continuamente. Quindi non significa urinare molto, urinare spesso, magari anche piccole quantità, ma sentire questo stimolo, questa necessità continua. Sì, e infatti... Non è buona. L'infiammazione degli sfinteri, per cui questi sfinteri che sono infiammati e praticamente come se fossero delle guarnizioni, la guarnizione non tiene più bene e allora uno è costretto ad andare a urinare. E anche in questo caso quale potrebbe essere l'origine di un'infiammazione? Eh, mamma mia! Dei... Beh, i dolci cremosi sono micidiali. I dolci cremosi per le coliche renali, per l'infiammazione delle vie urinarie sono tremendi. Perché lei spesso li nomina come dei veri e propri killer? I dolci cremosi cos'hanno di particolare? Perché i dolci cremosi è perché hanno dentro... Perché sono a base di... Hanno dentro latte, hanno dentro zucchero, che tra l'altro messi insieme sono un terreno di cultura per batteri a tutto spiano. E poi ci si aggiunge anche dei farinacci, tipo la famosa crema pasticcera, che è l'unione di tutte queste tre, quindi di farina, latte, zucchero, amicidiale. Poi un conto è se uno la userà una volta ogni tanto, ma se uno ha l'abitudine ad usare spesso e volentieri merende, merendine, paste, pastine, bignè, cannoncini, dove ci sono queste creme, brioche con dentro queste creme, è tremendo. Ma anche per le persone, tanto per dire, per le persone di gruppo B e di gruppo B, l'uso di dolci o di dolci cremosi, non facciamo nomi, ma quello famoso a base di nocciole, bello cremoso, li può creare e portare ad avere delle cistiti, non da poco. Quindi attenzione, nel periodo di Natale, le persone di gruppo B e AB, se vorranno mangiarsi un panettone, non cascherà al mondo, ma se si mangiano il panettone con la glassa di nocciole, si danno una zappata potente a livello di infiammazione generale. Quindi decisamente meglio il panettone con la glassa di mandorle e non con la glassa di nocciole. Bisogna imparare a leggere bene, benissime, attentamente le etichette. Oggi vanno di modo i panettoni tutti farciti, proprio di creme, di cioccolato. Per l'amor del cielo. Per l'amor del cielo. Se poi non sono conservati correttamente, tipo un panettone con le creme, che magari è tagliato, non viene consumato tutto subito, viene conservato fuori dal frigorifero, quelle creme lì diventano un terreno di cultura strepitoso per batteri a tutto spiano. Che mi dice di le persone che soffrono? Meglio allora, già che stiamo sugli sgarri natalizi o meno. Mi sa che anche noi questa sera faremo qualche peccatuccio. Potrà essere idem per Pasqua. Meglio allora un panettone farcito con dei pezzettini, con delle gocce di cioccolato fondente. Decisamente meno peggio, meno pericoloso. I canditi non fanno bene. I canditi, se l'industria si specializzasse e lasciasse da parte il candito di arancia, usasse il candito di cedro, decisamente meglio. Un panettone con il candito di arancia, una persona di gruppo 0, gruppo A e gruppo AB, quei canditi se li sentirà andare su e giù costantemente per 3, 4, 5 ore fino a che non è riuscito a smaltire tutto quanto.